Bruta sorpresa per i cittadini andriesi che usufruiscono del trasporto pubblico. Dal prossimo 15 febbraio entreranno in vigore le nuove tariffe approvate dall'ASA, la società che gestisce il servizio delle autoline andriesi, che hanno subito un pesante rincaro. Da premettere che nella città di Andria il costo dei biglietti risultava uno dei più bassi in tutta Italia e il comune di Andria dal 2009, tramite un progetto di mobilità sostenibile, versava all'ASA metà del costo del biglietto per invitare i cittadini a non utilizzare le proprie auto. Proprio nel mese di gennaio del 2015, praticamente un anno fa, una conferenza stampa congiunta tra i sindaci di Andria e Barletta con l'assessore ai trasporti della regione Puglia Giovanni Giannini permise di presentare il progetto del biglietto unico con la ferrotranviaria e di rimarcare l'importanza delle azioni messe in campo dall'amministrazione comunale andriese per la mobilità sostenibile. Ma dal 15 febbraio cambia tutto in termini di costi per i cittadini. Il costo del biglietto di Corsa Semplice varierà da 60 centesimi a 1 euro, mentre il biglietto di Corsa Suburbana per raggiungere Castel del Monte e Montegrosso da 65 centesimi a 1 euro e 10. Di conseguenza aumenteranno sensibilmente anche i costi dei vari abbonamenti. Il carnet di 12 biglietti di Corsa Semplice passa da 5 euro e 50 centesimi a 9 euro, mentre quello di Corsa Suburbana da 7 euro e 50 a 13 euro. Infine per gli studenti l'abbonamento mensile avrà un costo di 18 euro rispetto agli 11 del precedente tarifario.